Hanno preso d'assalto i bancomat di istituti di credito e uffici postali della provincia di Chieti nello scorso autunno, portando via, con riferimento a tre colpi in particolare, circa 76 mila euro. Ma il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Chieti, con l'ausilio di quelli delle compagnie di Lanciano, Ortone e Chieti e il coordinamento della procura di Chieti, ha portato all'identificazione della cosiddetta banda della marmotta, così chiamata per l'utilizzo dello strumento con cui facevano pesantemente deflagrare gli sportelli ATM. Otto persone sono state colpite da misure cautelari su disposizione del GIP di Chieti, sette di custodia cautelare in carcere, una di obbligo di dimora e devono rispondere di furto aggravato, fabbricazione e uso di ordini esplosivi. Tutte residenti in provincia di Foggia, ma che avevano una base a Francavilla al mare, sede ideale per preparare poi colpi portati a termine nella provincia di Chieti. I tre in questione sono al bancomat della filiale BPR di Miglianico, a quello della BCC San Groteatina di Canosa Sannita, a quello dell'ufficio postale di Villa San Vincenzo di Guardia Grele. Ricostruiti i passaggi del modus operandi della banda, sopralluoghi sugli obiettivi da colpire, furti delle vetture con cui compierli, con predilezione per l'Alfa Giulietta, da qui il nome dato a questa operazione, utilizzo della marmotta che veniva inserita dopo apposita forzatura nella bocca che eroga il denaro, prelievo delle banconote dopo l'esplosione, abbandono nelle strade o nelle campagne limitrofe della vettura utilizzata per il furto e rientro nei centri urbani. Una curiosità, come mai la Giulietta? Probabilmente avevano un sistema per rubare questo tipo di macchine, poi purtroppo sappiamo anche per storia giudiziaria che si cerca sempre di commettere reati con macchine alquanto comuni. A colpire anche la spregiudicatezza con cui agivano i malviventi e il grande utilizzo di polvere esplodente di cui veniva riempita la marmotta, tanto che i danni riportati non solo agli sportelli letteralmente sventrati ma anche l'intera struttura di banche opposte erano ingenti e impedivano la ripresa dell'attività nel giro di poco tempo. Con inevitabili possibili pericoli come abbiamo visto per esempio nell'episodio di Guardia Grelle dove la deflagrazione è stata veramente forte che oltre a creare un problema alla struttura abbiamo rinvenuto parti dell'esplosione anche a oltre 30 metri dal luogo quindi con un pericolo per eventuali passanti o per inquilini dell'appartamento posto ai piani superiore dell'ATM. È stata una indagine di qualità quella che ha permesso di risalire all'identificazione della banda, ha detto il comandante greco, passata per l'acquisizione di filmati di videosorveglianza, esame GPS, comparazione di DNA, utilizzo di sistemi informatici.